Il Tribunale di Sernia si appresta a tornare alla normalità. Grazie alle linee guida varate dal Presidente Vincenzo Di Giacomo, dalla settimana prossima saranno infatti riavviati i processi. L'incubo delle udienze da celebrare stando seduti davanti a un computer è stato dunque scacciato. Le parti si confronteranno in aula, come sempre. Naturalmente dovranno essere adottate diverse misure per prevenire ogni rischio di contagio. Le disposizioni adottate in perfetta sintonia con quanto proposto dalla Camera Penale di Sernia permetteranno innanzitutto di evitare assembramenti dentro e fuori il Palazzo di Giustizia, ha sottolineato il Presidente Francesco Lacava. Abbiamo incontrati i favori del Presidente Di Giacomo a cui va il plauso della Camera Penale perché in buona sostanza ha condiviso più che accolto le nostre proposte, ovvero sia dal primo giugno si riparte con i processi non da remoto ma si riparte in aula, saranno celebrate le sole prime udienze ovviamente compatibilmente con le norme per quanto riguarda l'anticontaggio ma comunque si riprenderà l'attività. È un piccolo passaggio ma è già qualcosa. Tra le novità più rilevanti la predisposizione di un calendario delle udienze con giorno e ora di inizio già stabiliti dai giudici. Qualche problema potrebbe crearsi con l'escussione dei testimoni ma con il passare dei giorni, virus permettendo, le cose dovrebbero sistemarsi. Per ora riprendiamo con le prime udienze per tutti i procedimenti penali dove in aula non è prevista la presenza di altre persone con gli avvocati. I processi saranno tutti cadenzati con gli orari e c'è da dire che i giudici hanno già aderito perché sono già arrivati gli avvisi per il 3 giugno prossimo. Cominceremo con i processi e con gli orari. Quindi accessi in tribunale graduati, massima sicurezza almeno per quanto riguarda la distanza tra le persone, le mascherine quindi nella completa garanzia almeno per quel poco che si riesce a fare adesso. L'unico problema sarà per l'escursione dei testi perché ovviamente l'escursione dei testi sono soggetti terzi rispetto al processo quindi rispetto all'avvocato e all'imputato che in teoria possono continuare a rimanere in aula perché non sono un gran numero di persone. Il problema sarà per sentire le persone terze, i testimoni. Per ora non saranno sentiti i testimoni se non assolutamente necessari e in un numero minimo poi man mano, dipende da come va il contagio, poi ci si regolerà.